La legge regionale numero 41 che riguarda gli interventi contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale riteniamo debba essere modificata proprio per affrontare questa nuova emergenza. Un'emergenza dettata dall'aumentare dei fenomeni di pedofilia, in particolare quelli generati sulla rete telematica e sulla rete web. Noi crediamo che ci debba essere un coinvolgimento di tutte le istituzioni ma in particolare della scuola e della famiglia perché crediamo che la pedofilia non sia solo un reato, sia un attentato contro la dignità della persona sia in particolare un crimine contro l'umanità che va affrontato con strumenti innovativi con risorse adeguate, attività di prevenzione che consentano in particolare di mettere in moto tutti quei mondi vitali che possono essere una valida trincea a chi abusa dei nostri bimbi e chi in qualche maniera va punito ma anche messo in condizioni di non muocere. Quindi in pratica quali strumenti pensate? Gli strumenti previsti da legge sono innanzitutto risorse utili per progettualità che andranno in particolare nel mondo della scuola e ovviamente con un'attività destinata in particolare alle famiglie che sono le destinatari di attività di informazione soprattutto per quelle famiglie che magari non hanno conoscenza di quegli strumenti che invece i giovani e i bimbi sanno già usare che sono gli strumenti telematici quindi l'uso del computer. Poi crediamo anche che si debba fare un lavoro interistituzionale quindi il coinvolgimento di tutti quei soggetti comprese in particolare le forze dell'ordine la polizia postale, i tutori dei minori, tutte quelle realtà che possono essere un valido punto di riferimento per ascoltare quel silenzio che diventa un terreno privilegiato per chi in realtà abusa e commette reati.